oh come lo faccio in partire? non lo so adesso proviamo quello che cos'è lì? non la conosce vero? si così ok Leo Leo aiuto ragazzi non ho la guida aiuto tenete sempre alla destra papà tu c'hai lo specchietto dai sei velocissimo papi papi? io non sono velocissimo dai se è molto lenta voglio provare a pedalare io un po' a me non va vado yeee andiamo vai papi vedala 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 più veloce vai no aspetta c'è una macchina oh no papi ma ma possiamo andare di qua ma qui è già solo papi perché il mio volante non funziona ma sei sicuro che andiamo di qua? ma secondo me di qua non possiamo andare c'è la strada dove andate? no no non mi è piaciuta papà questa cosa che hai fatto eh ho seguito il tuo tandem hai fatto una curva strana stavate correndo troppo c'era la macchina dietro papi tu ma cioè ma se usi il volante tu io non io non lo posso usare che ne so si che lo voglio a me non va il volante ah è perché guido solo io di qua tu devi aiutare con la pedalata se il pedale anche tu andiamo più veloce eh non è vero prova ma non è vero vai vai guarda guarda ma no è papi che si no guarda papi è fermo guarda vedi guardate guardate è Leo che pedala è Leo è Leo che pedala guardate si si papà è fermo è Leo che ci porta ragazzi vai campione vai giro su papi fermi 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 oddio guarda quanti gabbiani che ci sono davanti papi vai vai attenzione tutti i gabbiani sono gabbiani tutti i gabbiani adesso volano volano i gabbiani volano oh frena 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 che andiamo in acqua che bello frena 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 no 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 non mi piace non mi piace non mi piace no papà a me questa roba non mi piace vado io no ma che stiamo facendo niente di importante ma perché bisogna fare queste cose così vicine all'acqua andiamo no no non 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 l'acqua non l'acqua non l'acqua non vengo mica più Ehi Ho saputo che hai fatto un giro in tandem E' vero? Sì Ma è vero che tu il tandem non lo sai guidare? No E come hai fatto a guidare il tandem? Se tu non lo sai guidare Ho saputo che stavi investendo un vecchietto E' vero? E' vero che stavi investendo un vecchietto? Ci picchia Povero vecchietto Aia 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 Certo un vecchietto spiaccicato sotto un tandem Meglio essere spiaccicati sotto un tandem Che essere mangiati da uno squalo Aia 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 Io ho la bocca più grande della tua Io ho la bocca più grande della tua Guarda che bocca che c'è Aia 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 Mi fai male Hai capito che mi fai male? Guarda la mia quanto è grande Aia 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 Hai fatto male Mi hai staccato un dente Che dolore Che dolore Aia Aia Hai ragione sei più forte tu Ciao Me ne vado Ciao me ne vado Ciao Ciao me ne vado Ciao 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 Questi sono alcuni dei vostri disegni. Leonardo Di, con Mauro e Trici, ci danno tanta allegria, c'è la simpatia, nei video di Leonardo Di.